Avvicendamenti al comando delle stazioni carabinieri di Floresta, Ucria, Sant'Angelo di Brolo e alla guida della sezione radiomobile della compagnia di Patti. Nell'ambito dei normali avvicendamenti alla guida dei vari reparti dell'arma insistenti nel territorio nebroideo di competenza della compagnia carabinieri di Patti, il maresciallo ordinario Maggio Tommaso ha assunto il comando della stazione carabinieri di Ucria, subentrando al maggiore capo Giovanni Salleomagno, ha prodato invece al comando della stazione carabinieri di Floresta. Il maresciallo Maggio, 31 anni, originario di Nicosia, prima di assumere l'attuale incarico è stato per sei anni in servizio alla stazione carabinieri di Piraino e prima ancora ha ricoperto altri incarichi presso stazioni della Locride, ove è stato destinato al termine del corso formativo svolto presso la scuola allievi marescialli e brigadieri di Velletria e Firenze. Di più lunga esperienza di servizio invece è il maresciallo capo Giovanni Salleomagno, 45 anni, originario di Sinagra, il quale dopo un primo periodo trascorso in provincia di Milano, ha retto tra il 2004 e il 2015 il comando delle stazioni di San Calogero e Ioppolo nella provincia di Vibo Valencia, in un'area particolarmente sensibile sotto il profilo dell'Ordine della Sicurezza Pubblica per la radicata e per vicace presenza di criminalità organizzata. Infine, proprio dal 2015 a ieri, ha ininterrottamente mantenuto il comando della stazione di Ucria. Come primo cittadino ha voluto rappresentare Floresta, oltre che l'amministrazione, appunto nell'accogliere il nuovo comandante. Certamente, abbiamo voluto fare questa coreografia assieme all'assessore alla famiglia, nonché al capo dell'opposizione. Proprio per dire che noi nell'ospedalità e nel ricevere gli altri siamo tutti cittadini, unici e racconto. Il 19 febbraio scorso, invece, sempre nell'ambito della compagnia Carabinieri di Patti, il maresciallo maggiore Salvatore Ferrara, milazzese, 44 anni, dopo dieci anni trascorsi al comando della stazione Carabinieri di Termeviatore, è estremamente impegnata al contrasto delle organizzazioni malavitose barcelonesi, e prima ancora, dopo cinque anni di servizio alla stazione di Palermo, Brancaccio, e dopo altri sette anni presso altri comandi nelle province di Pesaro, Urbino, Nuoro e Cagliari, ha assunto il comando della stazione di Sant'Angelo di Brolo, subentrando al lugotenente Concetto Munafo, congedandosi per sopraggiunti limiti di età. Ancora, in data 10 febbraio 2020, il maresciallo maggiore Antonio Di Fidio, 48 anni, originario di Trinitapoli, ha assunto il prestigioso incarico di comandante della sezione radiomobile della compagnia di Patti, dopo 18 anni al comando della stazione di Racuia, e prima ancora, vicecomandante per quasi due anni della stazione di Sant'Angelo di Brolo, e per altri due alla stazione di Brolo. Infine, al comando della stazione di Racuia, è giunto il giovane maresciallo ordinario Alberto Fileti, 33 anni, messinese, il quale, al termine del corso formativo presso la scuola allievi marescialli e brigadieri di Velletri e Firenze, ha trascorso due anni presso il primo reggimento carabinieri di Moncalieri, ed altri due anni in servizio alla stazione di San Piero Patti.